La macchina elettorale si sta mettendo in moto. Domani la Commissione Comunale si riunirà alle 12 presso la sede di Viale Beverora per la nomina degli scrutatori in vista del voto amministrativo dell'11 giugno prossimo. L'estrazione dei 440 incaricati tra i 2.722 iscritti all'apposito albo avverrà tramite sorteggio del tutto casuale, mediante un algoritmo random. Con le stesse modalità saranno estratti i nominativi delle 440 riserve. Gli scrutatori dovranno rendersi disponibili dalle 15.30 di sabato 10 giugno fino al completamento delle operazioni preliminari, domenica 11 giugno dalle 7 alle 23 per l'apertura dei seggi e a seguire senza interruzione per le operazioni di spoglio sino alla conclusione prevista per le prime ore del mattino successivo. Nel Piacentino sono circa 91.600 gli elettori chiamati alle urne per le elezioni amministrative di Piacenza, Bettola, Carpaneto, Monticelli e Villanova. Secondo la rilevazione del 31 dicembre scorso fornita dal Ministero degli Interni saranno chiamati a eleggere il primo cittadino e i nuovi consiglieri comunali 76.742 cittadini a Piacenza, 2.841 a Bettola, 6.388 a Carpaneto, 4.517 a Monticelli e 1.507 a Villanova. A Piacenza, come in ogni altra occasione di voto, l'amministrazione comunale predisporrà il servizio di trasporto gratuito ai seggi per gli elettori con disabilità o difficoltà di deambulazione. Un minibus appositamente attrezzato o munito di pedana con elevatore sarà a disposizione dei cittadini che ne faranno richiesta all'ufficio trasporto disabili. Si ricorda che per esercitare il diritto di voto è necessario essere in possesso della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido. Per richiederne il duplicato nei casi di deterioramento, smarrimento o furto o nel caso in cui fossero esauriti gli spazi destinati alla certificazione del voto è necessario rivolgersi all'ufficio elettorale del proprio comune.